ma sei sicuro non è che disturbiamo? si le farà piacere oh oh patrina patrina siamo noi se vedo non rispondo chi è questo? dai andiamo via ormai siamo qui e se torni andiamo via è aperto proviamo in entrare patrina siamo noi oh oh forza diamoci da fare gente avanti tutti intorno al tavolo vediamo un po' che cosa ci offre la giornata cos'è questo? ah si quartieri alti un appartamento nella zona del Grove niente morti solo un ferito alla testa pavimento incotto dunque la strada esatta è Bayshore vicino a quella bisteccheria dove siamo andati con Clara per il suo compleanno avete presente? si si ok chi se lo prende? e noi olio di gomito mi raccomando Eva allora questo invece è a Biscayne un colpo di pistola a distanza ravvicinata un'esecuzione pavimento in parquet a noi voglio un inizio facile per lei va bene? tieni prendetelo voi questo oh me lo ricordo ho fatto le pulizie in questo palazzo l'anno scorso c'era un via vai di gente che non ti dico un via vai di gente? si affacciavano a guardare curiosi pervertiti andiamo avanti Miami Beach una bastonata sono mattonelle grazie a tutti